Buon Natale a tutte le dipendenti, a tutti i dipendenti, impiegati, funzionari, dirigenti di tutte le qualifiche della città metropolitana e di tutte le società partecipate della nostra città metropolitana. Così come per il Comune, anche per la città metropolitana e per tutte le partecipate, per me è difficile riuscire a incontrare tutti in questi giorni, anche perché stiamo lavorando tantissimo tra consigli comunali, consigli metropolitani, attività istituzionali, ma ci tenevo davvero a farvi gli auguri di Buon Natale a voi e a tutte le famiglie. È stato un anno difficile, però è un anno in cui ho potuto sempre di più apprezzare la dedizione, la competenza, la professionalità e la passione che ognuno di voi mette in un lavoro difficile al servizio dei nostri territori. Per me è un motivo di grande orgoglio e di grande responsabilità essere il capo di questa amministrazione. Ci tengo in questi momenti così importanti per la vita di ognuno di noi ad augurarvi nuovamente un sereno Natale a voi, a tutte le vostre famiglie, a tutti i vostri cari e soprattutto un bellissimo 2019. Auguri! Grazie a tutti. Grazie a tutti